Il comune di Arezzo si schiera ancora in prima linea a supporto delle famiglie assegnatarie delle case popolari in difficoltà. Il protrarsi della pandemia e le sue inevitabili ricadute negative sul sistema economico, spiega l'assessore alle politiche della casa Monica Manneschi, ci spingono a mantenere sempre attuale una priorità, sostenere i nuclei più deboli che stanno subendo le maggiori conseguenze anche rispetto al pagamento del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La precedente amministrazione aveva già deliberato in tal senso nel maggio scorso prevedendo una specifica forma di sostegno, ovvero l'assegnazione di un contributo economico straordinario per un totale di 35.000 euro disponibili a favore di Arezzo Casa per permettere alla società di aiutare gli assegnatari che hanno subito una riduzione del reddito a causa degli effetti del Covid-19. Di quel sostegno ad oggi ne è stata utilizzata una parte 13.500 euro, pertanto la quota restante viene innanzitutto confermata e poi rimessa in circolo. Arezzo Casa, conclude l'assessore, continuerà ad utilizzarla alle medesime condizioni e per le stesse finalità. Per come accedere a questa misura di sostegno economico per i requisiti e le modalità di presentazione della domanda si potrà visitare il sito www.arezzocasa.net dove è presente anche il modulo di autocertificazione che dovrà accompagnare l'istanza. La richiesta sottoscritta dall'assegnatario e corredata di un documento di identità in corso di validità dovrà poi essere inviata ad Arezzo Casa.